Dopo le elezioni europee e le elezioni locali l'Irlanda si scopre verde, verde perché l'affermazione del Green Party alla vigilia non era assolutamente scontata. I verdi vincono una serie di constituency che era improbabile vincere perché feudo di Finegel e Finafolli, i due partiti, il partito liberale, il Finegel, quello del primo ministro Leo Vardeccher e Finafolli, il partito diciamo repubblicano moderato, molto forte soprattutto nelle campagne che incarna appunto la tradizione repubblicana più vicina diciamo all'isola e alla Repubblica, in particolare alla Repubblica di Irlanda. Sconfitto Sinn Féin che invece appunto della tradizione repubblicana ne fa l'ala diciamo più di azione, più movimentista e che ieri sarà nelle parole di Marie-Lou MacDonald, come dire, non trova neanche una ragione e una soluzione a breve, neanche una risposta a quello che appunto sarà il futuro di Sinn Féin che tra l'altro ambiva a governare la Repubblica di Irlanda in un governo con Finegel e Finafolli in un scenario in cui le elezioni sarebbero state di là da venire. Che cosa succede ora? Allora il Green Party sicuramente non andrà al governo perché tradirebbe tutto quello che è stata la campagna elettorale e il primo ministro Leo Vardeccher ha annunciato da una parte delle misure verdi, un pacchetto di provvedimenti verdi da attuare a breve e dall'altra si è affrettato a dire appunto che di elezioni al momento non se ne parla. Nello stesso tempo ci sono due figure da tenere molto d'occhio nella politica irlandese nei prossimi mesi. Una l'abbiamo già conosciuta durante la campagna presidenziale, si chiama Peter Casey, è un miliardario ed è un uomo che viene dall'Irlanda dell'Ovest, dal West Ireland, era uscito con delle affermazioni abbastanza pesanti sugli immigrati e in particolare sui travelers che sono una sorta di rom stanziali che vivono in Irlanda da secoli e che è molto riduttivo però definire così e che nei mesi discorsi hanno ricevuto anche delle importanti affermazioni dei propri diritti da parte del Parlamento irlandese. Quest'uomo è stato letteralmente stracciato durante uno dei dibattiti appunto preelettorali da quella che è sicuramente la nuova figura politica irlandese che è George McHugh. George McHugh viene dall'isola di Echil ed è appunto nella contena di Meho, siamo in West Ireland un po' più a sud naturalmente ed è un ambientalista, ma un ambientalista di mestiere nel senso che ha studiato appunto queste materie all'università, ne ha fatto oggetto poi del suo lavoro ed è stata la vera e propria sorpresa appunto nella lista dei verdi. La vera e propria sorpresa perché appunto si è dimostrata essere molto credibile, volto leader perché ha stoppato subito appunto qualsiasi tentazione di coalizione nella politica diciamo nazionale e nello stesso tempo insomma tutti guardano a lei appunto perché poi c'è un altro elemento è donna e in questo momento in Irlanda la differenza la stanno facendo sotto molti aspetti nella politica come nella cultura e nelle arti le donne e quindi è destinata sicuramente a diventare una figura importante e non ultima appunto anche nei confronti di Sinn Féin che aveva fatto di due figure femminili due nuove leader dopo la morte di Martin McInnes e diciamo il pensionamento dell'altro leader appunto che è Jerry Adams. Ecco, Churchill McHugh arriva e il rompe sulla scena politica perché appunto è giovane e si fa vedere in questo video di campagna elettorale come è molto attiva anche nel suo territorio, attiva anche concretamente, quindi mette insieme la tradizione contadina irlandese che ancora è presente, è presente in molte parti dell'isola con questo volto appunto credibile di scienziata, di studiosa. L'altro aspetto interessante della vittoria dei Verdi è che cosa succederà a livello di politiche ambientali. Si è parlato subito di un pacchetto sui trasporti, questo pacchetto sui trasporti è molto importante perché i trasporti pubblici irlandesi in questo momento sono in grande sofferenza soprattutto nei collegamenti con le parti più periferiche dell'isola. Pensare di poter rinnovare diciamo il parco dei trasporti, di renderlo anche più verde, più ecosostenibile e più forte nei collegamenti è una vera e propria rivoluzione per l'isola. Nello stesso tempo c'è anche l'aspetto del diritto alla casa che i Verdi hanno intelligentemente fatto proprio perché è la campagna più forte in Irlanda, ci sono 10.000 persone che dormono per strada, ci sono 3.500 bambini e il numero poi cresce di unità di centinaia a seconda dei mesi, nei mesi estivi è più forte, è bene dire che nel pacchetto verde ci saranno anche politiche per il diritto alla casa, questo sicuramente è un passaggio molto importante per ottenere il consenso della popolazione irlandese e poi è un rinnovamento generazionale che non è cosa da poco. Staremo dunque a vedere nei prossimi mesi che cosa succederà, ma di certo elezioni locali ed elezioni europee hanno segnato una svolta interessante in un paese in cui i sovranisti non esistono praticamente, che si è approvato ma non ci è riuscito. Quindi è uno di quei paesi nel quale la rivoluzione verde sarà sicuramente al primo atto e ne vedremo ancora.